Soprattutto a Roma è quasi sempre in battito. Partiti! In vantaggio Sbadiglio davanti a Partai, Prince Douglas, Modesto Pellegrino e Capesaro. Dopo 200 metri di corsa, Prince Douglas e Sbadiglio conducono davanti a Partai, Modesto Pellegrino e Capesaro. Sempre Prince Douglas e Sbadiglio in vantaggio davanti a Partai, Modesto Pellegrino e Capesaro. All'inizio della curva proseguono in vantaggio Sbadiglio e Prince Douglas davanti a Partai, Capesaro e Modesto Pellegrino. Poco prima dell'ingresso, in leggero vantaggio Sbadiglio davanti a Prince Douglas, Partai e Capesaro. I cavalli entrano in dirittura, sempre con Prince Douglas e Sbadiglio in vantaggio davanti a Capesaro, Partai e Modesto Pellegrino. All'interno è Prince Douglas, all'esterno Sbadiglio, seguono Capesaro, Partai e Modesto Pellegrino. In vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Capesaro e Partai. Si avvantaggia Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Capesaro e Partai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.